Ordunque, proseguiamo la nostra analisi delle fallacce di tipo logico deduttivo. Nella scorsa puntata abbiamo esaminato la fallaccia di petizio principi, oggi, come annunciato, la fallaccia dell'argomento ad hominem, o anche semplicemente argomento ad hominem, in latino con l'H davanti, che vuol dire che è rivolto a un individuo relativo, è un argomento, si usa nell'argomentazione, un argomento che vale, o che si pensa possa valere, per l'individuo, l'uomo, la persona con la quale sto discutendo. Un argomento confezionato appositamente per il dibattito con la persona con la quale sto dibattendo. Facciamo subito un esempio, ovvero io sono con un mio amico superstizioso e improvvisamente un gatto nero attraversa la strada e io gli dico tranquillo, non devi aver paura di proseguire il tuo cammino, perché? Perché, sì, se è vero che i gatti neri che attraversano la strada portano sfortuna, ma non c'è nessun gatto che ha tutti i peli neri, quel gatto aveva anche qualche pelo bianco e quindi non c'è nessun problema, possiamo continuare la nostra passeggiata. Quindi, credo si sia capito che l'argomento ad hominem, appunto, per così dire, è un argomento diplomatico. Io, anziché mettere in discussione la credenza superstiziosa di qualcuno, anziché sostenere che, appunto, pensare che un gatto nero che ti attraversi la strada porti sfortuna, preannunci delle catastrofi, anziché, appunto, contestare questa tesi, confutare questa tesi, sostenendo che, appunto, è una superstizione che non ha nessun riscontro, nessuna prova, nessun riscontro effettivo nella realtà, salvo magari proprio in quel momento mi cade un vaso di fiori in testa, ma, anziché, quindi, impegnarmi, appunto, in un'argomentazione relativa alla sostanza, al cuore della tesi, che in questo caso voglio confutare, piuttosto che della tesi che, invece, voglio sostenere, io uso un argomento marginale, collaterale, che, però, penso, possa essere comunque efficace per convincere la persona con la quale sto parlando, con la quale sto discutendo, in questo senso, appunto, possiamo dire che l'argomento ad hominem, ma, come già detto, è un argomento diplomatico, è, diciamo, uno strumento, sicuramente i diplomatici ne fanno un grande uso, addirittura un abuso, ma è anche uno strumento pragmatico, poi la diplomazia e il pragmatismo vanno insieme, è, diciamo, un argomento pragmatico perché a me interessa il risultato, l'efficacia, indipendentemente dalla sostanza veritativa. Chiaramente uno potrebbe dire, si potrebbe dire, ma non è una fallacia, nel senso che, sempre riferendosi all'esempio di prima, effettivamente è possibile che non ci sia nessun gatto con tutti i peli neri, o quantomeno che quel gatto che attraversava la strada mentre passeggiavo con il mio amico, non avesse tutti i peli neri, ma anche un ciuffetto, o anche un solo pelo bianco. Quindi, se così fosse, uno dice, ma allora perché è una fallacia? È una fallacia perché, in realtà, poi, che la mia tesi corrisponda o meno a come stanno le cose, è del tutto secondario, cioè, che quel gatto abbia o meno dei peli bianchi è del tutto secondario, ma, in particolare, perché io, anziché, appunto, argomentare contro un'idea superstiziosa che ritengo sbagliata, quindi, anziché cercare, appunto, di confutare la verità dell'idea del mio amico superstizioso, io, appunto, uso un raggiro, io, diciamo così, uso una manovra diversiva, uso, appunto, un argomento marginale, collaterale, che non mette in discussione la credenza del mio amico in quell'idea superstiziosa per cui i gatti neri portano sfortuna se attraversano la strada, ma, ecco, certo, non è una fallaccia perché, in realtà, in questo caso, a me interessa il risultato, no? Allora, da questo, dal punto di vista della verità, appunto, è una fallaccia, dal punto di vista del fatto che io non volevo cambiare strada, non volevo fare un giro più lungo, non volevo affaticarmi, oppure volevo passare in quella via, perché quella via mi piace di più, allora ho trovato il modo per, comunque, evitare di tornare indietro e di fare un'altra strada e, in questo senso, appunto, l'argomento ad hominem è stato, o può essere, può essere efficace, ma, appunto, a livello pratico, a livello pragmatico. un'avvertenza, in questo senso, l'argomento ad hominem deve essere distinto da quello ad personam. Oggi, spesso si usa l'argomento ad hominem, la denominazione ad hominem, per indicare, invece, l'argomento ad personam, la fallaccia ad personam, cioè quella che, invece, colpisce il mio interlocutore. Per esempio, se il mio interlocutore sostiene una tesi e io replico questa tesi è sicuramente sbagliata perché tu sei un ignorante e non puoi sapere nulla di queste cose. Ok? Quindi, ad personam, poi lo vedremo, lo vedremo più avanti, è appunto una fallaccia che vedremo più avanti, l'argomento ad personam è quello appunto che colpisce la credibilità del mio interlocutore, della persona con cui sto discutendo, che appunto cerca di demolire la sua tesi demolendo la sua persona, la sua credibilità. ma questa è una fallaccia ad personam è una fallaccia comportamentale, diciamo etica, poi appunto la vedremo più avanti. Invece, invece, propriamente, la fallaccia ad hominem, con l'h davanti hominem, cioè relativa alla persona con cui sto discutendo, appunto è un'altra fattispecie, non va confusa con la fallaccia ad personam, anche se, appunto, avvertenza, anche se spesso oggi si sente usare il termine ad hominem per invece indicare la fallaccia ad personam. ma allora facciamo altri esempi di ad hominem. Per esempio, io posso dire a un conoscente devi votare il partito PDLM perché il suo segretario è simpatico. No, quindi non, naturalmente non cerco di convincere il mio conoscente a votare quel determinato partito in base ai programmi o a quello che gli esponenti di quel partito hanno fatto nella legislatura che si è conclusa, ma uso appunto un argomento ad hominem, ovvero il suo segretario è simpatico, perché magari ritengo che sia più efficace conoscendo minimamente il mio conoscente penso che le sue scelte siano più legate appunto a fattori empatico emotivi e quindi gli dico vota quel partito perché non vedi come è simpatico il suo segretario e quindi oppure magari è una conoscente donna io dico vota quel partito il PLNST perché il suo segretario è una donna come te quindi in questo caso faccio leva sul femminismo sull'identità di genere la solidarietà di genere oppure ancora sto camminando e vedo un ragazzo con una maglietta di Greenpeace che butta sul marciapiede una cartaccia e gli dico scusami ma tu sei un ecologista non puoi buttare le cartacce sul marciapiede devi buttarle nel cestino dei rifiuti e poi se poi è anzi ancora meglio nel raccoglitore della carta se è una cartaccia se poi invece è un bicchiere di plastica nel raccoglitore della plastica allora perché questo è un esempio di argomento ad hominem chiaramente perché in realtà nessuno deve buttare le cartacce o i bicchieri di plastica sul marciapiede per la strada non solo chi è di orientamento ecologista però io per essere più convincente diplomatico pragmatico invece uso come argomento il fatto che lui sia ecologista anziché dire l'etica civica prescrive di non imbrattare sporcare i luoghi pubblici perché sono di tutti anziché usare questo argomento uso l'argomento ma come tu sei un ecologista e butti le cartacce per terra e butti bicchieri di plastica per terra ok credo che sia facciamo un esempio facciamo un esempio più più di danciano forse no che è carino a me piace molto un tizio dice rivolto a Caio tizio dice rivolto a Caio oh ho sentito un cane cantare tutta la bohème e Caio e Caio risponde ma va non ci credo e tizio dice perché non ci credi ma perché lo sanno tutti che i cani preferiscono verdi a puccini ok bene per passare dal facetto al serio al presunto tale diciamo al filosofico nella storia del pensiero filosofico un celebre esempio di argomento ad hominem è è quello usato da da Epicuro per eliminare per no guarire per guarire dalla paura degli dèi dalla paura degli dèi no nell'antica antichità grecia nell'antichità greca come anche poi in parte ancora oggi si temevano le punizioni divine ci si aspettavano anche gli aiuti divini ma tutto questo ovviamente produceva malessere secondo Epicuro e quindi la paura la paura degli dèi era una delle quattro paure fondamentali che impediscono afferma Epicuro di essere felici quindi qual è la terapia della paura degli dèi e uno potrebbe dire sostenere che gli dèi non esistono no Epicuro non non argomenta la non esistenza degli dèi anzi Epicuro sostiene fermamente che sicuramente gli dèi esistono perché se tutti gli uomini hanno delle immagini mentali degli dèi siccome tutte le nostre immagini mentali derivano da esperienze evidentemente se abbiamo immagini mentali degli dèi gli dèi in qualche modo devono devono esistere ma allora cosa sostiene Epicuro sostiene che gli dèi sì esistono ma si disinteressano completamente di noi si disinteressano completamente non solo delle vite umane ma di tutte di tutti i processi naturali di come di come va il cosmo se ne infischiano gli dèi sono degli esseri superiori immortali che vivono negli interspazi tra un cosmo e un altro cosmo perché per Epicuro in realtà c'è un multiverso cioè una realtà composta da infiniti universi infiniti tra ogni universo negli spazi Lucrezio che traduce Epicuro usa l'espressione intermundia appunto negli interspazi tra i diversi mondi universi gli dèi si godono la loro vita immortale e appunto se ne infischiano altamente di noi uomini quindi notate 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 evidentemente Epicuro era un grande psicologo la sua cura delle paure e quindi la sua terapia per arrivare alla felicità era intrisa di psicologia Epicuro appunto un grande psicologo e in questo senso capisce capisce che la credenza negli dèi era diffusa era radicata dunque per guarire dalla paura degli dèi non conveniva negare l'esistenza degli dèi conveniva accettare questa credenza questa credenza comune e invece suggerire che benché esistano gli dèi non si occupano di noi perché sono talmente superiori talmente felici talmente immortali che appunto occuparsi di noi sarebbe come per noi occuparsi di una formichina anzi di un batterio anzi di un virus anzi di un coronavirus no no qui mi sono ce ne stiamo occupando a Iosa e ce ne stiamo soprattutto preoccupando a Iosa lasciamo stare questo discorso evitiamo di fare il dottor di vago allora concludo concludo legando legando questo ragguaglio relativo a Ipicuro alla sua terapia della paura ma in realtà sarebbe meglio dire della fobia degli dèi legandolo a una a quello che si chiama il bias del ritorno di fiamma backfire effect in inglese allora bias in inglese in realtà significa pregiudizio che poi nel linguaggio scientifico acquista anche il significato di errore quindi il pregiudizio errore del ritorno di fiamma backfire effect dell'effetto del ritorno di fiamma è un bias ma io direi che è anche una sindrome psicologica psicoideologica in che senso nel senso che consiste nel fatto che quanto più tu usi argomenti contro una credenza radicata della persona con cui stai discutendo per esempio che 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 il coronavirus non esista facciamo facciamo in questo senso una confutazione dei negazionisti ma poi dovremmo farla anche invece degli allarmisti catastrofisti ma va bene allora facciamo finta i negazionisti del coronavirus si portano delle prove ma in realtà quante più prove quanti più argomenti probanti vengono utilizzati sia contro i negazionisti sia contro i catastrofisti del coronavirus quello che appunto ci ammazzerà tutti bene tanto più appunto si forniscono argomenti tanto più questi argomenti provocano un effetto di ritorno di fiamma cioè di conferma ancora più accesa ancora più infiammata della del proprio pregiudizio del proprio del proprio errore del proprio errore e va bene qui sarebbe ci sarebbe tutto un discorso da aprire sulla sulla psicologia del della sindrome del ritorno cioè sulle cause psicologiche psichiche della sindrome chiamiamola così del ritorno di fiamma che adesso invece mi fa venire in mente la sindrome di Stoccolma quella di chi è stato sequestrato a lungo da altre persone e le amano che noi italiani durante il lockdown e ancora adesso a mio parere siamo stati colpiti della sindrome di Stoccolma infatti il presidente del consiglio attuale non ha avuto il massimo storico di consensi da parte degli italiani addirittura fino a una punta del 70% che credo nemmeno forse uno dei nemmeno acide dei gasperi nemmeno moro nemmeno berlinguer hanno mai raggiunto insomma c'è una bella differenza lasciatomelo dire ma chiudiamo sempre anche subito questa parentesi evitando un ennesimo dottor di vago allora vi dicevo appunto sindrome del ritorno di fiamma cosa c'entra e c'è credo l'abbiate già colto ovvero l'argomento ad hominem è particolarmente adatto e quindi in questo senso tutt'altro che fallace anche se non da un punto di vista veritativo ma da un punto di vista pragmatico questo in generale lo si può dire a proposito di quasi tutte le fallace di cui vi sto parlando sono fallace da un punto di vista di rigorosa logica formale ma appunto non è detto che lo siano dal punto da un punto di vista pratico pragmatico retorico quindi chiariamo chiariamo questo e poi tenete presente che un conto è dire non è necessariamente vero x e un conto è invece dire può non essere vero quindi appunto le fallace l'uso del fallace appunto non sta spalla di fallace perché non attestano in modo necessario la verità di qualcosa però non è escluso non è escluso che lo possano lo possano attestare se non altro allo stesso modo in cui un orologio fermo due volte al giorno batte l'ora esatta anzi la batte nel modo più esatto di qualsiasi altro orologio quindi in quei due istanti è l'orologio più esatto che ci sia un orologio fermo allora adesso torniamo al discorso che stavamo facendo cioè l'argomento ad hominem appunto è un modo per evitare la sindrome del ritorno di fiamma faccio un ultimo esempio e poi concludo la puntata di oggi allora prendiamo in considerazione i fondamentalismi religiosi ma non solo i fondamentalismi adesso per fare un esempio i fondamentalismi religiosi che di qualsiasi religione cristiana tanto quanto islamica o induista o quello che volete la caratteristica comune dei fondamentalisti è un'interpretazione alla lettera e anche poi estrema delle delle sacre delle rispettive sacre scritture da cui consegue una l'uso legittimo voluto da Dio Dio lo vuole della violenza anche di tipo di tipo terroristico nei confronti di tutti quelli che non non accettano la versione fondamentalista della tale o tal'altra fede religiosa allora è chiaro che nei confronti non tanto dei fondamentalisti ormai diciamo armati ma dei simpatizzati dei possibili aderenti di chi simpatizza e magari è in procinto di aderire a un gruppo fondamentalista l'argomento l'argomento migliore non è negare l'esistenza di Dio o degli dèi o di quello quella di Allah piuttosto che di di Gesù Cristo o di Vishnu l'argomento più adatto è semmai un argomento ad hominem e cioè sostenere che le sacre scritture rifiutano l'uso della violenza se non in casi di chiara legittima difesa personale o collettiva quindi ovviamente si tratta di appunto di un di un altro tipo di argomento poi volendo volendo si potrebbe si potrebbe poi usare tu no questo diventa ancora più ad hominem non so io so che quella quel simpatizzante fondamentalista è particolarmente legato a sua sorella e quindi dico pensa quando se diventasse un fondamentalista terrorista potresti uccidere tua sorella oppure i fondamentalisti potrebbero uccidere tua sorella perché fanno attentati sparando nel nel mucchio ok credo che con questo finale un po' un po' hard comunque abbiamo esaurito l'argomento domani spero affronteremo una nuova fallaccia con esempi molto divertenti per poi per controbilanciare compensare cioè la fallaccia dell'argomento ad autoritatem abbastanza noto che però viene chiamato denominato anche ad verecundiam cioè che si appella alla modestia poi ad verecundiam quindi doppia denominazione di questa di questa ulteriore fallaccia che vedremo nella prossima puntata ad argomento ad autoritatem che si fa riferimento a un'autorità filosofica scientifica politica psicologica quello che volete e ma detto chiamato anche ad verecundiam cioè argomento che fa appello alla propria modestia nei confronti sempre di un di un'autorità superiore alla prossima puntata